Kevin Costner, Dennis Hopper, interpretano uno dei film più costosi della storia del cinema, diretto dal regista di Fandango, Kevin Reynolds. In un lontano futuro dallo scenario apocalittico, la Terra viene sommersa dalle acque e la razza umana combatte per sopravvivere su imbarcazioni fatiscenti e città galleggianti di fortuna. Un mutante solitario Costner, nato con branchie e dita palmate, resta coinvolto nella battaglia fra il malvagio diacono Hopper e una bambina che ha la chiave per trovare la leggendaria Dryland, l'ultima terra che ancora fiora tra le acque.